Diciamolo subito, il titolo è fuorviante. Il cinema ovviamente non nasce a Venezia. Quello che voglio raccontarvi è semmai l'arrivo a Venezia del progenitore del cinema. Ma partiamo da un affresco, questo affresco. Realizzato da Gian Domenico Tiepolo, figlio del più celebre Gian Battista, su una delle pareti di casa di campagna di famiglia, iniziato probabilmente verso il 1750 e terminato solo il 1791, aveva sempre intrigato gli esperti per quella sua atmosfera un po' strana, quel suo mistero irriducibile. Ma cosa c'è di così strano in questa opera? Beh, guardate voi stessi. Il pittore ha ritratto tutta una folla vista di spalle o di profilo che assiste ad uno spettacolo invisibile. Non era propriamente comune ritrarre persone di spalle, o peggio, tutte e solo di spalle. Un'esecuzione davvero sorprendente. Personaggi sorpresi in atteggiamenti familiari durante una scena pubblica, ma niente a che vedere con l'esto sorridente di longhi o di guardi. Il soggetto è incredibilmente moderno, di una stranezza funambolesca, invitare a guardare ciò che non si vedrà. Uno spettacolo di strada, si direbbe, tutte le categorie sociali mescolate, dal borghese panciuto con la parrucca, al pierrot uscito dritto dalle scene della comedia dell'arte, dalle popolane prosperose protesi in avanti alla dama elegante con il cappello in testa e una mano sul fianco. Ma il vero segreto è il personaggio arrepicato su uno sgabello e che tiene in mano una lunga bacchetta, una specie di asta, la cui estremità raggiunge il centro della scena. Proprio lì, al centro, nascosti ai nostri occhi, c'era il protagonista principale. Il popolo lo chiamava scatola magica o mondo nuovo. Nella seconda metà del Settecento, in giro per Venezia, sostavano le prime scatole magiche che attraevano e curiosivano i passanti. Erano degli rudimentali visori in legno sorrettiti a un treppiede, nelle quali, attraverso un apposito foro, momento di lenti, si potevano vedere a pagamento delle immagini panoramiche, a volte anche con effetti tridimensionali, di varie parti del mondo, in special modo dell'America, chiamata allora mondo nuovo. Le immagini venivano ben presto associate all'apprecchio stesso che prese così nella prata comune questo nome. La gente si accalcheava per guardare quelle immagini di paesi lontani, portando anche i bambini, proprio come oggi al cinema, di cui il mondo nuovo può essere certamente considerato un progenitore. Nella commedia I rusteghi di Carlo Goldoni, a un certo punto, Lunardo dice, mio padre, quando ero giovane, mi diceva, vorresti vedere il mondo nuovo o vorresti che ti dia due soldi? Io mi attaccavo i due soldi. Nel film Il mondo nuovo di Ettore Scola, del 1982, si vede una scena con l'apparecchio in questione sulla destra. Tecnicamente consisteva in una sorta di scatola al cui interno un fascio di luce, prima una semplice candela, poi una rampa da l'olio, colpiva delle immagini trasparenti, in genere immagini dipinte su lastre di vetro, proiettando l'immagine ingrandita su un schermo bianco sempre all'interno della scatola stessa. Attraverso poi una lunga e contorta serie di invenzioni più o meno bizzarre, si arriva a 1895 con la presentazione del proiettore cinematografico da parte dei fratelli Lumière, che paradossalmente essi stessi definirono un'invenzione senza futuro. Il 9 luglio 1896 i fratelli Lumière diedero pubblica dimostrazione della loro creazione a Venezia presso il teatro Minerva, ex teatro San Moisè. Tra parentesi, ai primi dell'Ottocento questo teatro fu trampolino di lancio di un giovane Rossini, che proprio qui ottenne i suoi primi grandi successi di pubblico. La prima proiezione cinematografica, strettamente per inghito, suscitò grande entusiasmo. Le proiezioni si succedettero per circa due mesi. Il 22 agosto vennero proiettati alcuni filmati girati proprio a Venezia, intitolati i Piccioni di Venezia, i Vaporetti a Rialto e l'approdo di una gondola a San Zanipolo. Ma la grande novità veneziana fu la prima carrellata, cioè un filmato in movimento, della storia del cinema. I fratelli Lumière, infatti, posizionarono una cinepresa a bordo di un vaporetto che, scivolando sull'acqua, permise una ripresa in movimento dei palazzi del canale grande. Nel link qui sotto trovate il video completo della carrellata in questione. Se il video vi è piaciuto potete mettere un like, condividerlo sulle vostre pagine Facebook e, se non volete perdervi anche gli altri miei video, potete iscrivervi al mio canale YouTube.